che cazzo dura ma quello lì è arrivato a mezz'ora ah sicuro eh guarda dove sono, l'hai visto? aspetta che devo prendere lì l'hai visto l'isca? da lì non posso? nooo da su in cima eh sì da quello lì quando erano sotto a pistola stavano salendo su di lì ma ci va a mezz'ora sicuramente eh sì eh vabbè ci divertiamo noi qua facciamo le zonette prepariamo una zonetta bello però il laghetto là eh fa le due foto non mi vai in caldo d'orce e beh ma prova a vedere se trovi se ti dà l'altitudine sì 2000 g ah già è vero bravo sono salito mai visitando ah 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 yeah ah Grazie a tutti.